La sfida di canti che ci hanno immerso nella bellissima atmosfera natalizia presentiamo ora i tre di ospiti della serata il duo formato da Gianluca Cotta, chitarra, e Mauro Anzeni, scocce che eseguiranno tre canti in lingua salda appartenente alla tradizione popolare della nostra terra qualche breve notizia sul duo che tra poco si esibirà il duo Anzeni Botta nasce dall'incontro di tue esperienze musicali profondamente diverse Gianluca è diplomato in chitarra classica al conservatorio di Cagliari mentre Mauro proviene dal canto sardo, tradizione alla chitarra partendo dall'utilizzo di testi più importanti autori sardi, i quali Montanaro, Masala, Angura, ecc hanno creato un repertorio originale di tanti il duo ha partecipato alle più importanti trasmissioni televisive sul folclore e si è esibito in numerosi circoli sardi Turino, Milano, Bologna, Alessandria, ecc il duo ha inoltre in repertorio un'originale messa e cantata in lingua salda vorrei passare la parola a questo punto a uno dei tuoi Mauro Gianluca Gianluca, prego Buonasera a tutti, parlerò senza microfono anche perché Mauro canterà non significato e quindi mi sembra giusto che faccia lo stesso sforzo anche io innanzitutto è un onore essere presenti qui e ringrazio adesso Pino Aresti che ci ha voluti è una bellissima manifestazione, abbiamo già visto la maestria dei cantanti e dei musicisti come ha detto la rappresentatrice, il nostro è un luogo un po' particolare tutto quello che sentirete è in certo modo sempre originale anche la dose del primo brano faremo a Eus a sa grutta che è celeberno perché fa parte di quei canti della novena anche cent'anni fa a Berchida composero i due sacerdoti Casuo e Sanna, lo sapete decidero di fare i canti della novena e un primo giorno composero a Eus a sa grutta il secondo giorno naschilessi il secondo giorno lo dedichessi tienero un po' vita a quello che oggi avrebbero potuto fare bovone e battisti ecco, così per la nostra sardine ci regalarono delle piccole perfezioni però voi non riuscirete a riconoscere la debuta sa grutta perché viene rifatto con una melodia originale grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Andiamo a questa grotta, di lunghe notte a lotta, di lunghe notte a lotta, è stato suo bambino, Gesù, Signore nostro, Re divino. Gesù, Signore nostro, Re divino. Es un calmo dell'Itto, Pater, famigliere frittu, S' a mano a pannos, Olufasca, Re divino a pannos. 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 Olufasca, Re divino a pannos, Olufasca, Re divino a pannos. Olufasca, Re divino a pannos. Olufasca, Re divino a pannosis. Olufasca, Re divino a pannos. Alla fine del 1700 faceva le prediche in ottava, quindi è tutto in rima, sicuramente noi non abbiamo musicato tutta la predica, abbiamo musicato un pensettino e li facciamo sentire, e questa è la musica. Musica Devo questo rosario, escuta al vento, Sì, mezzo sfruttos me chiede in sfogare, Britei ma a poco sui pensamenti, Sa origine e misteriosi declamare, Te gusta, te funzioni, tu instrumento, O meras esistano sui salvare, De gloria santa e nina soberana, De agudo a satrafezza umana. Non deve nessun rosario recitare, Musica 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 Grazie a tutti. Il suo secondo si deve ricordare dotare Weston il suo destine e il gloria di risa il suo consolo e il sangria Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie.